Una data storica e significativa per il movimento globale contro l'alternity e la dittatura finanziaria. Un movimento che ha radici profonde, ha radici decennali e che nasce alla contrarietà di quella globalizzazione neoliberista, di quel sistema economico finanziario che ha impoverito i nostri stati, ha impoverito le nostre vite e sta sfruttando i nostri territori. Oggi, a Terribili, i bravi ribelli rivolgono alle strade, i bravi ribelli alle politiche delle amiche, e alla politica delle amiche, delle amiche, delle amiche, delle amiche, che rispondono all'inizio, la settimana finanziaria e la banca centrale europea. Siamo tutti stati, statisti, idrini, perché consapevoli sappiamo davanti a noi un lungo percorso, ma che lo vinceremo, se sapremo uscire dalla vera rivendicazione, se sapremo costruire, come abbiamo fatto il 12 e il 13 giugno, momenti fondativi e costituenti di una reale alternativa. Riprendiamoci i beni comuni, riprendiamoci le nostre vite contro il saccheggio contro la BCE. Riprendiamoci i beni comuni, riprendiamoci i beni comuni, riprendiamoci i beni comuni,